Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video serale, questa volta sono un po' impresentabile ma sono appena tornato da palestra e mentre facevo un po' di panca mi è venuto in mente che volevo parlarvene già oggi di questa cosa che avevo anticipato nel video di stamattina e cioè questa paura che ho nei confronti di quello che sarà il mercato della Juventus perché come sappiamo ci saranno diverse cessioni, c'è quella di Chiellini, quella di Dybala probabilmente quella di Artur, quella di Bernardeschi che tra l'altro sta trattando con Inter, Milan, Napoli insomma sta trattando con un po' tante squadre in Serie A, lo stesso Dybala, oggi Marotta ha detto che spera che il prossimo anno Dybala possa giocare con l'Inter quindi come possiamo vedere le altre squadre di Serie A, al pari della Juve ovviamente si stanno muovendo per formare la squadra che è in astri di partenza di una Serie A strana per via del mondiale che ci sarà tra novembre e dicembre sarà necessario avere già la squadra pronta per inizio preparazione, quindi nel giro di un mese il che significa che nel giro di un mese la Juventus dovrebbe concludere e portare a Torino concludere le retratative e portare a Torino dei calciatori che andranno a formare lo scheletro la colonna vertebrale di quella che sarà la Juventus dell'anno prossimo e ovviamente se partono diversi giocatori importanti come Chiellini, Dybala giocatori che hanno fatto la storia della Juve, magari altri meno importanti seconde linee come Bernardeschi, Artur e quelli che usciranno perché notizia delle ultime ore, Dujan Vlaovic sembra indirizzato verso la maglia numero nove della Juve il che significa tradotto la cessione pure di Alvaro Morata più che cessione il non rinnovo del prestito allora capite bene che bisogna muoversi e bisogna fare mercato il prima possibile prima che sia troppo tardi ora sarò forse un po' troppo paranoico lo dico tranquillamente questo è un video lamentela non è un video spesso, è un video lamentela da tifoso della Juventus che si trova con una paura davvero profonda all'interno del mio cuore dettata da però basi solidissime e cerco anche di farvi capire il mio ragionamento da tempo da giorni, ormai da settimane forse leggiamo che per Pogba e per Di Maria la Juventus avrebbe già concluso tutto ci sarebbe l'accordo con i due calciatori che sono due calciatori a parametro zero per alcuni come Pogba mancano dei dettagli dal punto di vista dei bonus comunque dettagli economici per Di Maria invece mancherebbe soltanto il dettaglio legato alla lunghezza del contratto tra l'altro si vocifera che è proprio mercoledì quindi dopo domani la Juventus e gli agenti di Di Maria si troveranno per discutere quest'ultimo tassello che ovviamente è molto importante perché Di Maria vorrebbe un anno la Juventus due con un anno non fai partire il decreto crescita con due sì non so se questa cosa potrebbe far saltare la trattativa oppure no vediamo però come vi ripeto gli organi di informazione ma non è uno o due così a caso gli altri vanno in direzioni opposte no no tutti gli organi di informazione vanno in quella direzione lì e cioè Pogba e Juventus hanno parlato Di Maria e Juventus hanno parlato ed entrambi i giocatori hanno dato la preferenza hanno dato l'appoggio hanno aperto al trasferimento in bianco nero per la squadra di Torino però c'è un problema oggi vi facevo un discorso legato appunto a due nomi che sono circolati e sono stati dati anche per molto vicini alla Juventus eventualmente come Rudiger si era detto è fatto cioè Gazzetta si era esposta dicendo è fatta per Rudiger io mi ricordo quella notte in cui ho aperto i miei social e ho detto come è fatta per Rudiger un venerdì sera stavo tornando da giocare a calcio con la squadra un venerdì sera ho detto come è fatta per Rudiger e Perisic sembrava un nome molto forte per la Juventus però qua c'era un po' più di spaccatura alcuni dicevano di sì altri dicevano di no anche su Rudiger in realtà ha dovere di cronaca diciamo le cose come stanno però qui apriamo un discorso legato alle fonti che possano avere i giornalisti e io non voglio assolutamente rimettere in discussione la professionalità dei giornalisti perché ognuno ha una voce ha con chi parlare non è questo io non ho idea di poi con chi parlino chi dia le notizie non lo so non è un argomento che voglio toccare quanto più farvi ragionare su un altro binario quello legato a Paolo Di Bala al rinnovo del contratto di Paolo Di Bala ricordate la situazione no? qua forse erano un po' più allineati tutti sulla stessa riga e cioè Paolo Di Bala rinnoverà il contratto con la Juve addirittura faccio nomi con nomi Romeo Agresti caro amico grande collega di Youtube e ovviamente non lato giornalistico ma come ben sapete sto iniziando a prendere il patentino per diventare giornalista quindi magari un giorno saremo colleghi pure lì Romeo si è risposto su Di Bala e ha detto 101% Di Bala rinnoverà con la Juventus cosa che poi effettivamente non è accaduta e allora la domanda che vi faccio è se è sbagliato Romeo a dare quell'informazione quindi era una fake news oppure è cambiato qualcosa e la risposta ce la dà la Juve stessa la Juventus si dice che a un certo punto non sarebbe più sentita dall'arrivo dall'acquisto di Eurovici in poi erano cambiati i piani e quindi quella che all'epoca quando Romeo aveva dato la notizia era una notizia confermata è che dava un rinnovo provabile vicino tra Di Bala e la Juventus poi si è trasformato in un nulla di fatto ufficializzato dalla Juve con Paolo Di Bala che appunto oggi sta trattando con l'Inter a missione stessa di Giuseppe Marotta e allora che cosa succede nel mezzo com'è possibile che da un 101% fatto si passa Di Bala che tratta con l'Inter a parametro zero succede che poi passano i giorni succedono cose e la Juventus potrebbe semplicemente cambiare idea rispetto a quello che aveva già iniziato a mettere in pista perché con Di Bala ricorderete quanti incontri cosa diversa rispetto all'anno scorso perché qualcuno potrebbe dirmi sì Luca capisco questa questa attesa capisco questa tua pressione questi esempi che magari ci stanno pure ma l'anno scorso con Locatelli siamo andati avanti due mesi tre mesi tutta la trattativa legata al calciomercato estivo è stata su Locatelli e io vi ripeto sì è vero ma intanto era un giocatore e bene o male l'anno scorso abbiamo fatto due giocatori quindi insomma non è che e due dovevi trattare con una società dovevi trattare con il Sassuolo che era molto pignolo su certi argomenti su certe cifre su certe modalità la Juventus cercava di spendere meno il Sassuolo voleva di più e allora si dovevano incontrare il calciatore continuava a rifiutare altre offerte perché voleva la Juve c'erano tre organi di mezzo la Juve il Sassuolo Locatelli e ovviamente gli agenti Locatelli qui no qui non c'è una squadra cioè se la Juventus vuole Di Maria e Pogba fra cinque minuti la Juventus annuncia Di Maria e Pogba non è questo il problema la mia paura è allora che cosa stiamo aspettando davvero effettivamente l'anno di contratto in più in meno per Di Maria e le cifre i bonus o i tre anni di contratto o i quattro anni di contratto per Pogba o c'è qualcosa di mezzo Di Maria lascerà il PSG questo lo sappiamo il PSG l'ha già salutato Pogba non è detto perché ora la mia paura è la seguente non è che Pogba sta facendo questo giochino perché da Parigi hanno pronta un'offerta che però non è così alta come vuole lui e allora sta cercando di raggiungere l'offerta alta a Parigi o addirittura di falsere alzare ancora di più da Manchester è ovvio che queste non sono notizie queste non sono cose che stanno accadendo sono cose che però nella mia testa iniziano a ragionare iniziano a frullare perché io continuo a leggere che Pogba ha scelto la Juve ha scelto il cuore ha annunciato ha un ingaggio più alto è tutto fatto molto probabilmente a breve si conclude però ormai è una settimana forse 10 giorni che andiamo avanti con questa tiritera e in un argomento in cui davvero oggi è il 30 giugno è il 30 maggio quindi tra un mese esatto il 30 giugno e questi giocatori si ritroveranno svincolati e quindi è da il 31 di dicembre che questi possono firmare gratis con chi vogliono sono 5 mesi in questi 5 mesi non c'è ancora stato l'annuncio ufficiale per questi giocatori inizio a avere un po' di paura e vi rincaro la dose vi faccio altri due esempi che vanno in questa direzione Federico Bernardeschi citato prima no? quante volte abbiamo letto che comunque la Juventus e Bernardeschi qualcosa potevano fare e avvicinarsi a trattare il rinnovo senza dare la certezza che avrebbero rinnovato come accaduto per Dybala perché in quel momento stava accadendo però lasciare aperto questo spiraglio di idee che poteva accadere ancora più nel concreto Mattia De Sciglio che questo sì è stato dato per fatto e anche questo sì da praticamente tutte le testate giornalistiche da tutti quelli che hanno notizie fresche di prima mano eppure il contratto di Sciglio ancora non è stato firmato anche lui tra un mese sarà svincolato non sarà più un calciatore della Juve e proprio oggi si vocifera che Mattia De Sciglio potrebbe alla fine non rinnovare il suo contratto con la Juve e allora ribadisco notizie che fino a ieri sembravano confermate se andava in una certa direzione eppure oggi eccoci qua a meno che ovviamente non intervenga le società come nel caso di Dybala non rinnova nel caso di Di Maria saluto bla 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 quando la società fa il suo comunicato e quando prende la decisione ufficiale quello è ufficiale però attenzione perché Pogba lo United non l'ha ancora salutato ufficialmente Pogba non ha ancora salutato lo United Pogba non ha ancora deciso dove andrà a giocare o magari l'ha deciso ma non l'ho ancora annunciato e questi continui indizi social che vi ho detto anche l'altro giorno ragazzi l'indizio social prendetelo sempre con le pinze l'altro giorno si parlava di Adidas che aveva commentato una foto di Pogba col bianco nero poi rimosso sì sono cose che ti fanno pensare che effettivamente sotto ci possa essere qualcosa però attenzione perché ribadisco tutti stanno dando io stesso mi sto illudendo io stesso su Pogba ho una grossa illusione nel senso che poi se non dovesse arrivare sul serio ci rimarrei male perché ormai me lo sento il ritorno del polpo cioè la mia impressione la mia opinione è che davvero alla fine tornerà Pogba però la mia opinione a Pogba frega meno di zero la Juventus frega meno di zero quindi non lo so non vorrei mai che poi potesse accadere qualcosa che la Juventus potesse cambiare idea che possa cambiare idea che Pogba possa cambiare idea che il PSG possa immettersi o magari il Real Madrid che in realtà è difficile il Real Madrid perché oggi sta prendendo Chiuamini però insomma non vorrei mai che a un certo punto pam ancora una volta ancora una volta un cambio di programma un cambio di strategia un cambio di offerta l'inserimento di un'altra squadra un cambio di idea carta canta quando c'è la firma poi sono più tranquillo infatti anche l'altro giorno qualcuno mi diceva ormai è ufficiale Pogba la Juventus praticamente ufficiale e io gli ho detto no ufficiale è quando la Juventus annuncia il colpo ufficialmente e solo lì sarà ufficiale ribadisco abbiamo visto Patrick Schick venire a Vinovo alla Continassa non mi ricordo che fosse a fare le visite mediche e non è stato calciatore della Juve abbiamo visto Bermatov partire per Firenze per poi andare verso Torino per poi non andare da nessuna parte abbiamo visto via via Nicola sciarpa del Milan annunciato sui social del Milan e poi rimosso ne abbiamo viste tante ragazzi ormai ne ho viste talmente tante che non mi sorprendo più di niente probabilmente alcune me le sto dimenticando quindi occhio calma tranquilli non andate in giro a dire che è ufficiale ve lo ripeterò sempre sarà ufficiale quando la Juventus presenterà Paul Pogba in maniera ufficiale e ora ho un po' di paura concedetemi un po' di paura